in questo flash tips su Edmodo vedremo due cose la creazione di un messaggio alla nostra classe e la creazione di un compito questa è la schermata che compare in Edmodo dopo aver fatto il login nella parte sinistra sono presenti le mie classi io al momento sono in classe di prova nella parte destra è il vero e proprio social e nella parte centrale scusate nella parte destra invece ci sono altri collegamenti importante per esempio è il codice comunicando ai ragazzi semplicemente questo codice essi senza aver bisogno di una posta elettronica potranno iscriversi a questa classe con un'operazione molto semplice vale a dire iscriviti a un gruppo infatti se io clicco come vedete mi chiede il codice vediamo la creazione di un messaggio è veramente molto molto banale mi posiziono nell'area messaggio qui scrivo benvenuti ecco qua nella parte sotto mi chiede a quale classe io voglio rivolgere il messaggio perché potrei rivolgerlo a più classi in questo caso ho scelto classe di prova se non ci fosse stato io avrei scritto classe e subito ecco qui Edmodo mi avrebbe dato la possibilità di scegliere come vedete c'è anche classe di prova parents vale a dire posso anche inviarlo ai genitori degli alunni e non agli alunni in questo caso scelgo classe di prova oppure posso anche inviarlo a uno specifico alunno a quel punto ho finito clicco su invia ed ecco qua che il messaggio eccolo qui è comparso ora se i ragazzi hanno uno smartphone nel loro smartphone compare un messaggio una notifica di benvenuti questo per quanto riguarda il messaggio per quanto riguarda il compito è altrettanto semplice metto il titolo del compito che so relazione sul clima se clicco carica compito posso caricare che ne so un file modello un file di word per esempio infatti se vado su carica compito ecco qui che mi chiede se voglio inserire un compito già inserito in altre classi o uno ex novo posso poi stabilire la data di scadenza ecco qui il calendario posso fare una descrizione del compito posso impostare che dopo la scadenza il compito non è più consegnabile e da qui questa è la parte più importante posso allegare ecco qua il mio compito posso allegare un link in questo caso o allegare un file della mia library vale a dire dalla mia repository interna ed modo dove tengo i documenti send later indica semplicemente come vedete che posso posticipare l'invio vale a dire lo pianifico ma stabilisco che la pubblicazione debba avvenire fra un giorno un'ora o qualche giorno fatto tutto creo su clicco su invia ecco qua in questo caso come vedete manca la descrizione e di conseguenza Edmodo lascia un messaggio in questo caso io dico relazione in 2000 battute ecco la descrizione data di scadenza la impostiamo al 31 di marzo a quel punto non ho inserito allegati avrei potuto farlo clicco su invia invio in corso ecco qui che ora al posto del messaggio di benvenuto che è sceso sotto io ho relazione sul clima che è un compito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti